Il cimitero urbano per una serie di novità importanti che riguardano il complesso cittadino. Iniziamo con l'assessore alla sicurezza e servizi cimiteriali Nicola Scardillo. Innanzitutto alle sue spalle vediamo questo totem. Di cosa si tratta? Era la promessa che avevamo fatto come amministrazione di informatizzare il più possibile il cimitero. Questo totem serve per poter fare la ricerca dei defundi in modo tale da essere autonoma, soprattutto nei periodi festivi dove non si può chiedere aiuto agli uffici. Quindi chi arriva anche da fuori può digitare il nome e cognome del proprio defundi e quindi saprà dove si trova. Grazie anche a una tabella che c'è dietro, quindi fatta anche abbastanza grande, per poterlo cercare in modo facilmente. Ma oltre a questo diamo la possibilità anche di andare tramite un sito del nostro comune, quindi l'Oden Beach del comune, ci sarà ricerca dei defunti dove anche da casa, chi viene anche da fuori può cercarselo e venire tranquillamente a trovare la propria tomba dei defunti. Ok, non è però l'unica novità oggi al cimitero. Sta completando e sarà funzionale fra pochissimi giorni, fra pochissime ore, un sistema di videocamere, che era un altro degli aspetti importanti. Sì, per quanto riguarda la sicurezza noi ci abbiamo messo un po' di attenzione, ma questo serviva soprattutto nel progetto Smart City, dove ogni ingresso del cimitero, questo urbano, c'è una telecamera, dove registra direttamente nella sala di controllo della polizia locale e quindi monitoriamo le entrate e le uscite, per tenere in sicurezza anche i cittadini che vengono nell'orario un po' meridiano soprattutto. Ecco, Sindaco, quello della sicurezza era uno dei temi caldi per quanto riguarda non solo il cimitero di Vigevano, ma anche quello delle frazioni. Diciamo che ci sono due progetti distinti, quello che diceva l'assessore Scardillo che rientra nel piano Smart City, mentre c'è stato un bando regionale al quale il comune di Vigevano ha partecipato ed ha vinto per quanto riguarda invece i cimiteri delle frazioni. Sì, esatto, si tratta di un... era nel nostro programma di mandato, quindi qui abbiamo completato, sono in fase praticamente di ultimazione dei lavori per controllare gli ingressi del cimitero principale e con gli altri fondi che abbiamo vinto andremo invece ad aggiungere sicurezza e videosorveglianza anche agli altri cimiteri delle frazioni. Chiaramente poi le immagini confluiranno tutte, lo ricordiamo, nel nostro grande data room, database, quindi sono immagini che poi potremo gestire noi come tutte le altre forze dell'ordine, sia in ottica preventiva che anche repressiva. Ecco, un altro aspetto che lei ha sottolineato nella giornata odierna riguarda invece lo stanziamento di circa 2 milioni di euro che sono arrivate dalle sequazioni per quanto riguarda la famosa tempesta perfetta del 26 agosto dello scorso anno e che aveva provocato danni ingenti qui al cimitero. Sì, il cimitero era stato uno delle zone più colpite, se vi ricordate, era un disastro, immagini che molti forse ricordano, tra l'altro aveva colpito un luogo molto caro ai nostri concittadini, quindi nell'anticipo che era possibile chiedere all'assicurazione sui danni complessivi che dovrebbero agirarsi intorno ai 5 milioni di euro, ne abbiamo chiesti 2 milioni e abbiamo dato come priorità tra le altre proprio l'intervento all'interno del cimitero in questa prima fase intervenendo su tutte le parti comuni dove è chiaro sostanzialmente che l'assicurazione può intervenire nel risarcire i danni che sono stati causati dalla tempesta. Ultima cosa per quanto riguarda l'assessore ai servizi cimiteriali, il piano cimiteriale. Sì, il piano cimiteriale stiamo quasi per completarlo, quindi siamo pronti per poterlo tenere operativo, questo ci permetterà in futuro di partecipare a dei bandi regionali per fare il forno crematorio, ma oltre a questo volevo anche aggiungere che nell'Oltremora stiamo per poco tempo, fra po' riusciremo a far partire praticamente la zona delle cenere, quindi chi vorrà può spargere le cenere in autonomia, quindi senza nessun problema. Questo stiamo aspettando l'autorizzazione dell'SST per poter farlo diventare operativo. Grazie sindaco, grazie assessore.